Al via il campionato di A2 femminile per il Valle Soverato, siamo con Serena Bertone, una delle riconfermate alla quarta stagione qui in Riva all'Oionio. Si parte in casa contro una matricola, praticamente, il Collegno Volley, un Soverato che adesso si allena anche a ranghi completi con l'arrivo delle nuove straniere. E quindi una squadra competitiva allestita dal presidente Matozzo per ambizioni importanti. Sì, abbiamo fatto un bel mese di preparazione e ci hanno aiutato anche le ragazzine delle giovanili. Adesso finalmente sono arrivate le due straniere e ci possiamo allenare in dodici. Ci siamo allenate molto bene e siamo cariche per questa partita di domenica. Diversi test con squadre di pari categorie in questo mese poco più di preparazione. Qual è il tuo giudizio? È una squadra per gran parte nuova, quindi c'è bisogno del cosiddetto rodaggio anche. Sì, sì, le amichevoli sono andate molto bene perché abbiamo sviluppato un gioco che è stato efficace. Tranne le ultime amichevoli contro Marzala che non è andata molto bene, però il livello del gioco è stato molto buono. Per quanto riguarda le tue prestazioni, l'anno scorso è il primo campionato da titolare e quest'anno ci si attende una conferma. Sappiamo che riconfermarsi non è mai facile. Sì, l'anno scorso è andata molto bene e speriamo di confermarci anche quest'anno, anche meglio. Finalmente si parte, è il caso di dire domenica dopo un'intensa preparazione precampionato inizia il campionato di Serie A2, siamo con Coach Barbieri, presentiamo questa prima giornata con questo impegno casalingo, il collegno volley, matricola di questo campionato. Innanzitutto presentiamo la squadra avversaria, che tipo di squadra si attende Coach Barbieri? È una squadra molto ben organizzata, abbiamo visto a video, non è stato facile da studiare perché loro poi in questo precampionato hanno alternato molto i centrali, hanno invertito le bande. Sicuramente però è una squadra che complessivamente abbiamo visto che è un'ottima organizzazione, soprattutto muro difesa, lavorano molto bene, perciò dobbiamo stare attenti sulle variabili che avremo con i nostri attaccanti. Un soverato che si presenta ai nostri di partenza, sicuramente con un roster importante, è arrivata anche adesso Alexa Gray, quindi roster al completo, finalmente adesso ci si potrà anche allenare in 12, questo è sicuramente un aspetto molto importante perché in questo precampionato, ovviamente non essendo a ranghi completi, sappiamo che le difficoltà sono maggiori. Sì, sì, però lo sapevamo che Alexa sarebbe arrivata dopo la qualificazione e che abbiamo fatto un pochettino fatica a lavorare, però nel contempo penso che lei, il fatto di essersi qualificata per i mondiali, è molto carica e ha una gran voglia di lavorare, perciò è arrivata, ha voluto subito allenarsi con le ragazze, questo è un aspetto positivo. Sì, adesso abbiamo bisogno di un paio di settimane per trovare i migliori automatismi, però penso che con le altre con cui abbiamo lavorato questo mese già possiamo fare qualcosa di importante, già da domenica. Un soverato che ha disputato in questo precampionato tanti allenamenti congiunti con squadre di pari categorie, non ultimo il primo torneo Città di Palmi che sicuramente è stato un test importante, la prova generale se così si può dire a una settimana dall'inizio del campionato. Che impressione ha avuto il coach da queste partite dove comunque la squadra ha potuto testare la condizione psicofisica e i progressi sotto il profilo anche dell'assemblamento, diciamo così? Sì, si è visto innanzitutto che quello che si diceva già un paio di mesi fa, che il livello è veramente alto e molto equilibrato, per questo sono stati match molto combattuti e va bene così. Noi abbiamo visto che comunque abbiamo un'ottima, chiamiamola panchina, comunque ragazze che partono in seconda battuta, hanno dimostrato già parecchio e sono convinto che sarà il nostro valore aggiunto del campionato. Infine, ultima domanda, visto che si inizia adesso con questo campionato, guardando tutti i roster, il giudizio di coach Barbieri, secondo coach Barbieri, quale sono le squadre che reciteranno o che possono recitare un ruolo da protagonista? Ma l'abbiamo già detto, sono molte le squadre che possono giocare, sicuramente Cune ha fatto una campagna importante, Chieri, Mondovì, Trento, Ravenna, sono tutte squadre che a mio avviso lo stesso Baronissi abbiamo visto giocare molto bene, so che hanno fatto acquisti anche in settimana. Poi noi, come sempre, come abbiamo detto dall'inizio, siamo qua e siamo convinti e sicuri di poterla giocare con tutti. Roster completo per il Vole Soverato, è arrivata anche Alex Gray, schiacciatrice canadese, quindi tutti pronti per questo inizio di campionato. Allora chiediamo ad Alexia perché ha scelto questa esperienza Soverato, cosa si aspetta da questa prima stagione in Italia e le impressioni in questi primissimi giorni qui nella cittadina Ionica. Sono molto contenta di essere qui, con il lavoro duro di tutti i giorni si aspetta di migliorare insieme a tutta la squadra e pensando al futuro sicuramente di fare i play-off insieme. L'altra giocatrice del Vole Soverato che è arrivata nelle ultime settimane è Elizabeth McMahon, schiacciatrice statunitense. Lei è qui già da circa dieci giorni, ha disputato anche delle amichevoli con il Vole Soverato. Che impressione ha avuto delle compagnie di squadra, delle avversarie che ha affrontato e che cosa ti aspetti da questo campionato? Sì, sono qui un po' di più di una settimana e credo che è stato molto divertente di capire i coach e le ragazze. Stiamo lavorando molto harde nel gym, credo che possiamo migliorare ogni giorno e poi in ogni posizione abbiamo un buon mix di esperienze e i giocati sono pronti per imparare. E sono pronti per una season competitiva.